E siamo di nuovo in diretta per rinnovare come ogni lunedì l'appuntamento con i sindaci del nostro territorio. Questa sera sono di nuovo in compagnia del primo cittadino di Fano, Massimo Seri. Sindaco, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori di Fano TV. Tantissimi già i messaggi che ci sono arrivati, vi ricordo però di inviare davvero dei brevi messaggi di testo perché essendo in diretta facciamo difficoltà a leggere i vostri messaggi qualora fossero davvero lunghi. Spero che siano messaggi augurali, ci avviciniamo alle feste di Natale, quindi siamo tutti più buoni. I numeri di telefono per intervenire invece in diretta 0721 86 14 33 oppure 338 49 68 250 per inviarci messaggi di testo appunto anche utilizzando l'applicazione di Whatsapp. In questi istanti Sindaco lo vorrei ricordare perché insomma sono momenti forti e importanti. La comunità di Marotta Mondolfo è riunita in preghiera per Asia Nasoni e per tutte le vittime della tragedia di Corinaldo. Ieri la città di Fano si è stretta attorno alla famiglia di Benedetta Vitali, abbiamo visto dei momenti davvero toccanti anche nel corso del nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Lei è riuscito a prendere parola, dico riuscito perché non è semplice in questi momenti e credo che lei abbia parlato innanzitutto come padre prima che da Sindaco. Sono momenti difficili, l'ho detto anche ieri, un sindaco è abituato a prendere la parola, interviene su tanti argomenti ma alcune volte non vorrebbe trovarsi a dover parlare in certe situazioni. Poi mi lega anche un rapporto personale con la famiglia, col padre che ci conosciamo da quando siamo ragazzini. C'era anche un coinvolgimento forte in prima persona ma al di là della persona era un momento intenso, di forti emozioni e doloroso anche perché da una parte è bello perché c'è una città che si è unita alla famiglia, al fratello, al babbo, alla mamma e ho visto una partecipazione sincera, vera, di tanti ragazzi, una piazza così piena di tanti giovanissimi non l'ho mai vista con tanti giovani così. Ma poi c'è stata anche una partecipazione di cittadini che ci sono voluti unire a questo momento nel ricordo di Benedetta. Però per me è stata anche un'occasione per dire anche altre cose oltre al momento toccante, nel ricordo, nelle parole di affetto, di amore perché poi noi siamo, io sono sindaco ma prima di essere sindaco sono un uomo, sono un figlio, sono un padre quindi so benissimo cosa significa quando un genitore sopravvive al proprio figlio. penso che non ci sia prova più dolorosa e difficile che uno possa provare. Uno prova a immaginare quale dolore ci sia ma è inimmaginabile chi non l'ha vissuto in prima persona. Ho voluto anche stonare un altro, fare un richiamo di essere tutti uniti affinché si faccia anche giustizia perché questa tragedia purtroppo era una tragedia evitabile, non è stata una fatalità, un incidente. Questo rende tutto ancora più doloroso perché in quello stabile che tutto doveva essere tranne che una discoteca si sono fatti entrare troppi giovani sfruttando la loro voglia di vivere, la loro allegria per magari guadagnare qualche soldo in più. Non si può abusare di queste cose, quando si approfitta dei giovanissimi e dei ragazzi diventa un crimine poi quando succedono queste cose. E allora ecco, è importante che anche la giustizia faccia il suo corso, non restituirà Benedetta ma se non altro non darà risposta ai tanti perché che noi ci poniamo. Però può servire perché queste cose non accadano mai più. Ha detto bene, la giustizia purtroppo non potrà mai far tornare indietro nel tempo le lancette. La cosa che più mi ha colpito ed è stato bello, l'affetto di una città veramente che si è unita alla famiglia, si è unita tutti insieme come se fossimo un'unica grande famiglia. Questo è stato bello e penso che i genitori e il fratello, un ragazzo straordinario, fra l'altro ha usato parole toccanti, belle, che sono arrivate nel cuore di tutti. Ecco, questo penso sia stata forse la cosa più bella, proprio questa partecipazione, questo senso di comunità, questo senso di appartenenza, questo volersi sentire tutti uniti in un abbraccio virtuale, tutti insieme. Tutti comunque ci auguriamo che la giustizia faccia il soccorso e che chi a vario titolo abbia avuto una responsabilità accertata, insomma paghi per queste azioni che abbiamo visto insomma il risultato drammatico. Colgo anche l'occasione per fare anche un'altra riflessione. Alcune volte quando magari chi ha delle responsabilità chiede delle restrizioni, chiede di avere più attenzioni o magari ridurre il numero della partecipazione a determinati luoghi, c'è spesso una reazione come per se qualcuno non volesse far divertire i nostri giovani. Nascono delle polemiche, in realtà è l'esatto opposto. Quando noi alcune volte ci impuntiamo su certe situazioni è perché vogliamo far divertire i nostri giovani, ma in sicurezza. E quindi è un comportamento perché li vogliamo bene, sì. Certo. Bene, andiamo avanti con la nostra scaletta e torniamo agli argomenti di Fano, anche quelli un po' più dibattuti in questo periodo. Però iniziamo dall'attualità, partiamo dalla Teatro Romano, perché entro la fine dell'anno il Comune dovrebbe rientrare in possesso di questo manufatto di Via De Amicis. Domani alle 15 si terrà una conferenza stampa proprio nella Sala della Concordia. Ci sono buone nuove? Sì, sono buone nuove. È un altro risultato, un'altra bandiera che mettiamo, una grande conquista. Devo dire, ho ricevuto anche una lettera della sovrintendenza che ci fa tanti elogi per questa operazione che stiamo concludendo. Domani porteremo l'atto deliberativo in giunta, poi andrà al prossimo Consiglio e poi ci sarà il Rogito. Il Comune di Fano tornerà proprietario dell'ex Filanda, perché il Teatro Romano, i resti archeologici, quelli che vediamo alle mie spalle, in realtà sono già del patrimonio dello Stato. Ma è tutto allo stabile intorno, l'ex Filanda, di cui diverremo proprietari e quello deve diventare un altro luogo importante di forte attrattività per Fano che si unisce ai lavori che stiamo facendo a Sant'Arcangelo, che faremo perché ancora siamo nella fase di progettazione, che si unisce alla Memoteca. E tutto questo per rendere Fano sempre più attraente. Io sono convinto che Fano nel giro di pochi anni diventerà la città più interessante della nostra regione. E dai sotto gli occhi di tutti i risultati che stiamo ottenendo, sempre più gente viene a visitarla, sempre più gente si rende conto della bellezza e dello splendore che sta recuperando. Tornando all'ex Filanda, quello diventerà un progetto straordinario dove dovrà accogliere tutto quel patrimonio archeologico dedicato alla nostra... E speriamo anche l'Isipo. E speriamo anche l'Isipo sta in questo progetto. Però il risultato vero è che al di là di tante chiacchiere c'erano dati una sfida che entro l'anno volevamo chiudere tutta l'operazione. Effettivamente siamo proprio agli sgoccioli dell'anno ma siamo riusciti a mettere questa bandiera. Era un'operazione articolata, complessa, che richiedeva tanti passaggi, uno ad uno, li abbiamo portati tutti a termine. E oggi finalmente, anche una risposta a quelli che non ci credevano, non ci avrebbero scommesso un euro, ma li stiamo abituando su tante cose. Magari arriva un po' tardi, ci impieghiamo un po' più di tempo, ma lavorare nel pubblico è complesso. Certe volte chi sta dall'altra parte non si rende conto delle difficoltà che anche noi incontriamo. Però in questi anni, passo dopo passo, tutti i risultati, tutti gli obiettivi che c'eravamo prefissi, li stiamo portando a buon termine, a buon fine. A proposito di conferenza stampa, se ne terrà un'altra mercoledì per parlare delle scogliere di Metauriglia. Questo frutto di un accordo tra RFI, Comune e Regione, ci può dare qualche anticipazione? Sì, anche su questo si sta definendo tutto quello che era il percorso che ci eravamo dati. Sono 4 milioni di intervento e di lavori, ma in realtà vorrei dire che abbiamo accolto anche la richiesta dei residenti e degli operatori della zona di fare tutto il progetto, non soltanto quello che viene realmente finanziato. così abbiamo fatto, in modo tale che quando avremo delle risorse aggiuntive possiamo proseguire senza dover fare di nuovo la progettazione con tutti i passaggi della via e quindi facendo passare altri mesi che farebbero perdere soltanto del tempo. Però su questo voglio dire che è già partito il bando per l'intervento in Sassonia per la nuova scogliera, stiamo lavorando per fare anche le altre due, a giorni dovremmo avere delle novità, non voglio anticipare nulla perché come si dice non dire gatto finché non lo hai nel sacco, però anche su quello era un impegno che ci eravamo presi e stiamo andando verso quella direzione. Noi abbiamo già messo anche le risorse da parte dell'amministrazione a disposizione per integrare le risorse della regione e ovviamente non ci accontenti, poi ci sono altri 200 mila Euro per la zona di Ponte Sasso. Questa dimostrazione che insomma il tema della difesa della costa è un tema che sta a cuore, sta a cuore sia per coloro che ci abitano ma anche per coloro che hanno delle attività, che significa tanto per la nostra economia cittadina, quindi per tutto quello che riguarda tutto il comparto del turismo, dell'estate e in questi anni vorrei anche evidenziare che gli investimenti fatti per la difesa della costa sono stati tantissimi che non hanno uguali in anni passati, poi si guarda sempre quello che non va però è anche giusto ricordare i risultati ottenuti. Con RFI stiamo proseguendo i nostri dialoghi per cercare di avere ulteriori risorse anche per altri tratti perché abbiamo visto la nostra vulnerabilità anche con l'ultime mareggiate, con l'ultima situazione che si era eccezionale e ha colpito un po' tutto l'Adriatico, un po' tutto il territorio italiano e anche il nostro, quindi c'è necessità di fare ulteriori interventi oltre a quelli già programmati e previsti. Andiamo avanti sindaco con il digestore perché come si può immaginare tante sono già le richieste, abbiamo anche una telefonata pronta proprio su questo argomento, le vado a leggere l'ultimo messaggio che ci è arrivato, parla appunto del digestore e ci scrive il nostro telespettatore, dato che il nostro sindaco ci ha elogiato con belle parole del digestore che ha visitato in mezzo ad una vigna al nord, perché se tanto bello ed ecologico, non inquinante, non costruirlo dove sorgeva lo zuccherificio, quindi l'ex zuccherificio, ma sentiamo invece qual è l'altra domanda che ci pone la persona che ha il telefono. Sentiamo chi c'è in linea, buonasera. Buonasera, il sindaco è oltre al digestore, vorrei dire delle opere compensative, chi è stato che ha fatto il progetto e che praticamente l'ha approvato? Strade strette, rotatorie giganti e poi via Fanella, che vi ha iniziato a vedere, veramente sotto il ponte, ancora stanno contro il ponte. Si sente un male? Signora un attimo perché la sentiamo male, non so se è un problema nostro, tecnico oppure suo. No, perché le opere compensative vorrei sapere chi è stato l'ideatore del progetto e chi l'ha approvato. Poi, perché strade strette, rotatorie giganti, mi sembra una cosa assurda. Pesaro tutt'altro, io sono di Pesaro, quindi non vivo a Fano da 35 anni, via Fanella che abilità doveva avere? Signora, mi dispiace ma la devo fermare, Cristiana Regia se mi fai la cortesia di parlare con questa signora e mi dai qualche dettaglio, così riusciamo a darle una risposta. Sì, perché francamente non ho capito, lo sì che comprendeva bene. Ricordiamo anche a casa che in questi ultimi giorni sono state protocollate delle firme in comune per cercare di indire questo referendum, è uscita anche Lega Ambiente che sostanzialmente è d'accordo con i digestori, dice però è meglio in una zona un po' più centrale. Sì, guarda, purtroppo si strumentalizza sempre tutto, ci si gioca molto senza parlare in termini di contenuti veri. Perché quando parliamo di queste cose sono situazioni evolute e sono presenti in tutte le realtà che noi prendiamo sempre da esempio. Ma al di là di questo, cosa dire? Allora, c'è questa proposta di referendum, ma io da una parte sarei anche contento, almeno sono i cittadini che si esprimono, dicono quello che vogliono, perché sapete cosa succede? Intanto si dicono delle cose anche in base agli elementi che si hanno. Io sono abituato, quando devo, siccome mi sento anche la responsabilità di sindaco di questa città, vorrei fare le cose più giuste, più utili e vantaggiose per la città e per chi ci vive. A cominciare da me, io abito qua, quindi non è che faccio i dispetti alla mia città. Mi piacerebbe quando giro per la strada guardare come sto facendo tutt'oggi le persone, salutarle, senza dover abbassare lo sguardo, perché ho fatto un dispetto alla mia città. Ma io parto dal pregiupposto che chiunque si candidi a svolgere un ruolo come questo lo faccia in buona fede. Poi se ci sono altre cose, sono altri aspetti e sono altri che le devono valutare. Allora, il tema del digestore, qui si è partiti e purtroppo anche le immagini spesso che si fanno vedere non sono quelle dei digestori. Si era partito con il discorso della discarica, in realtà è tutt'altra cosa. Le Le Gambiente, tutte le associazioni ambientaliste ne parlano come besprati, come eccellenze, come sotto certi aspetti, qui si parla di inquinamento, è un problema che non esiste, inquina più un distributore dove non andiamo a fare benzina, perché qui non c'è proprio inquinamento. Non lo dico io, io non sono un tecnico, quindi mi baso. E quello che vorrei far sottolineare, la cosa che mi dispiace, è che chi fa degli attacchi non porta una persona tecnica esperta che possa confermare quello che lo riguarda. Perché io sono contento se viene qualcuno a dire, guardate che il digestore porta inquinamento, fa male alle persone, queste cose. Siamo qui per capire, ripeto, io non sono un ingegnere, non sono un chimico, non sono un tecnico, ho fatto studi giuridici, quindi mi baso su quelle che sono le mie conoscenze. Ma anche nell'ultimo Consiglio Comunale non c'è una forza politica che abbia detto che il digestore non vada affatto. E poi è chiaro, adesso si avvicinano le regionali, c'è un po' il gioco delle parti, giocare sempre nel dire, nel spaventare le persone, aiuta a portare consenso. Però io ho cercato di ottenere un comportamento, l'ho detto anche la volta scorsa, lo sto dicendo dove è possibile, l'ho detto in Consiglio Comunale. Io reputo di questo e sono convinto che il digestore sia un impianto importante per il nostro territorio. La fermo perché così mi può rispondere esattamente sulla domanda che voleva fare la telespettatrice. Visto che prima delle elezioni diceva di no al digestore, adesso invece sì. Perché? No, allora anche su questo io voglio essere preciso, io non ho mai detto no al digestore, ho sempre sostenuto che il digestore era un impianto importante per il nostro territorio. Avevo detto no su alcuni siti e rispondevo anche a provocazioni che parlavano di discariche, facendo vedere anche delle immagini vergognose che non rappresentano la realtà. E soprattutto io ho ripreso una nuova iniziativa perché voglio che la gente sappia di cosa parliamo, perché noi siamo fatti così. Poi questa cosa la fa qualcun altro, da un'altra parte, e ci si accusa perché l'abbiamo fatto fare ad altri e si fa sempre scippare tutto quanto. In siccome non penso che le persone dal rubicone in su abbiano l'anello al naso e siano fessi e si facciano del mare. Penso che ci sia una realtà molto evoluta sotto certi aspetti, anche rispetto alle nostre dove abbiamo molto da imparare. Quindi io voglio che conosciamo e capiamo di cosa si parla. Poi oggi ancora parliamo sul sentito dire, anche vanno verificati tutti gli aspetti di fattibilità, di cosa significa. Io voglio tutte le informazioni. Poi queste informazioni si discutono. Poi ripeto, alla fine a me interessa relativamente dove si andrà a fare il digitale. Ma io voglio che si faccia. Perché cosa significa? Ah, porto un altro esempio, perché qui si parla di traffico, di tutto quello, il mondo che... Allora, oggi cosa succede? Adesso perché? Cittadini che mi ascoltate a casa. A casa mia passano il lunedì e il venerdì passano a prendere l'umido. E questo nei vari giorni della settimana accade in tutta la città. Quella roba di dove va? Sparisce, c'è un Silvan che fa la magia, sparisce. No, ci sono dei mezzi che lo raccolgono, girano per tutta la città e si fermano in un luogo in mezzo alle persone che è nella zona del zuccherificio, viene stoccato, rimane a cielo aperto per due giorni e poi viene portato a Ravenna in un digestore. Ecco. No, perché qui si dice tutto il... Quella roba lì, invece di portarla a Ravenna, a Ravenna non è che vanno a fare inquinare, non è che ci sono sommosse a Trento dove c'era stato un dibattito, mi raccontavano anche lì prima di farlo, ma oggi sono tutti soddisfatti e contenti, fra l'altro è portata su tutte le riviste specializzate come un esempio di best practice di impiantistica. Quindi quella roba lì è anche meglio perché invece di stare quei due giorni all'aperto andrà direttamente su questa fabbrica. Allora, poi un altro elemento, adesso al di là perché qui parlo di tutti i luoghi, oggi non c'è nessuna scelta ancora di nessun sito fatto, io ho difficoltà a esprimermi perché voglio capire tutti gli elementi che ci sono, però porto un altro elemento di attenzione. Se si parla di una zona industriale, di un'area dove può andare una fabbrica, cosa inquina più? Una nuova fabbrica o un digestore? Inquina più una nuova fabbrica? No? Adesso poi è brutto fare anche questi ragionamenti perché noi vogliamo fare... E' giusto da far capire un attimino un paragone. Anche le attività produttive servono al nostro territorio, portano economia, posti di lavoro, quindi sono tutti argomenti, non voglio cadere anch'io nelle battute che non servono a nulla. Allora il messaggio che io voglio trasmettere, cerchiamo di capire di cosa parliamo. Non queste cose non le pensiamo vicino alla vita, quando si parla di bellocchi sembra che si faccia dentro, non è così. Quindi io ho chiesto che si facciano tutti gli studi e di avere tutti gli elementi che poi non li ha solo il sindaco, li hanno tutti e poi in modo trasparente e in modo aperto, si ragiona per fare la cosa più giusta e utile per il nostro territorio. Poi c'è anche un altro elemento che si unisce a questo, perché fra l'altro il digestore produce biometano e produce compostaggio, quindi è tutto sigillato, è una fabbrica a tutti gli effetti. Anzi, le immagini che si sono viste anche che prendono a Trento, questa ancora meglio perché anche l'erba del giardino, perché parliamo di questo, parliamo della buccia di banana, dell'erba degli sfalci. A Trento sono all'aperto, allora quello come a casa dopo 3-4 giorni, 5 giorni d'estate, magari se le vai a muovere possono rimettere l'odore. In questo caso anche quelle stanno in un posto chiuso, quindi parliamo di queste cose qua, quindi effettivamente il problema di inquinamento è zero. Io ho sentito anche delle immagini, delle persone, i tumori, cioè dopo veramente non viviamo più. Penso che gli elementi di pericolo siano altri. Ma detto questo, io sono contento se ci vengono delle persone che ci pongono dei problemi, delle criticità vere, ma non fatte tra politici che si gioca per trovare due voti in più. Io chiedo a questi che fanno di portare elementi, persone competenti, serie, che possono confutare queste cose. Io li ringrazio, perché effettivamente ci sono delle cose che magari sfuggono, che altri non possono dire, ci aiutano a fare. Per avere un confronto con dei dati certi, accertati. L'altra domanda che voleva farle la signora, come mai non fare via Fanella a doppio senso, quindi ritornare come era una volta anni fa? Sulla viabilità è sempre un problema, è un problema su via Fanella, adesso non vorrei fare delle gaff, c'era anche l'ufficio. Non ho capito, lì c'è il senso unico, c'è la parte dedicata al trasporto pubblico, alla pista ciclabile. Ci sono stati diversi incontri, è difficile rimettere il doppio senso, penso possa diventare un problema. Però preferisco su questo rifare un focus, perché rischierei di distrarmi e dire delle cose imprecise. Adesso ci stiamo anche adottando, facendo uno sforzo maggiore proprio anche per questi aspetti, per rendere le circolazioni più sicure, anche per pedoni ciclisti e migliorare la viabilità. Fra l'altro con le nuove strade, il 23 inaugureremo, apriremo anche il tratto che va dal Vici del Fuoco fino verso Fenile a Belgatto, il nuovo tratto, che quello sarà comodissimo e andrà a diluire, a ridurre anche il peso del traffico. Quella è un'altra opera importante per la nostra città. Prima di sentire chi c'è al telefono, ultimi messaggi sul digestore, perché credo che ne abbiamo parlato abbastanza, propongono anche altri cittadini nella zona dell'ex zuccherificio. Il messaggio che ci manda adesso una signora invece è questo. Al contrario di tante persone vorrei semplicemente dire che ho parlato con un tecnico per farmi spiegare che cos'è questa macchina infernale. Ebbene me lo ha spiegato, non è inquinante tutt'altro, ma serve qualcuno che lo spieghi in modo comprensibile, con parole semplici. Questo chi lo dice? Come me tanta gente cambierebbe idea. Una comunica cittadina non sappiamo. No, ma infatti chi scopre e capisce questa cosa va in quella direzione. Ma poi, come sempre, io stesso all'inizio avevo delle posizioni più scettiche, tant'è che sono voluto andare a vedere con i miei occhi. Ho chiesto di accompagnarmi anche ai rappresentanti delle varie forze politiche, perché è giusto che ognuno si renda conto. E chi è venuto devo dire, si è rifatto un'idea un po' diversa. Sentiamo chi c'è al telefono. Buonasera. 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 Prego. Signor Sindaco, buonasera. Buonasera. Dunque, io le volevo chiedere, su via Girolamo da Fano, perché non esiste una pedonabile o una ciclabile e le macchine quando in certe ore della giornata corrono come pazzi e quindi ritengo che la strada sia molto insicura. Dove c'era ai lati dell'asfalto l'erba, ci hanno messo la ghiaia e lì corre l'acqua come un fiume, l'ha portata via sempre tutta e la mette in mezzo alla strada. Quindi bisogna fare qualcosa. Mi dica lei se ritiene una cosa giusta, fare una pedonabile. Se uno esce di casa con un passeggino rischia di portargli via il bambino, il passeggino e tutte le macchine. Se ritengo una cosa giusta io farei le ciclabili e le pedonali in tutte le strade della città, l'obiettivo è quello, spazio permettendo. Lì la situazione è un po' più complessa, fra l'altro siamo in discesa, è un tratto di strada molto trafficato in modo particolare d'estate quando si va al mare, molte biciclette scendono giù. Fra l'altro adesso dovremmo appaltare a breve anche la pista ciclabile, tante telefonate ho ricevuto anche a primo cittadino, il nuovo tratto che porta dall'Arzilla fino alla Foce, anche illuminata, insomma un bel tratto che si unisce agli altri interventi che stiamo facendo e che faremo. E lì è da studiare, capire, perché poi vanno fatte queste pedonali come le chiama il Signore o marciapiedi, devono essere in sicurezza, vanno fatte con tutti i dogmi che richiedono questi interventi. L'obiettivo però è arrivare in tutte le strade. I residenti di Via del Fiume vorrebbero far notare nella zona dell'ex ammattatoio in avanti l'assenza di illuminazione pubblica, l'assenza di dissuasori, visto che nel rettilineo le macchine e i camioncini procedono anche ad alta velocità, ci fanno sapere. In secondo luogo l'assenza di protezione per pedoni o ciclisti, quindi i residenti hanno già depositato su questo una raccolta firme ma senza risposta. La domanda che le fanno, è previsto qualche intervento in quella via? Quella è un'altra strada importante, trafficata. Adesso noi, avete visto anche l'estensione dell'illuminazione, le stiamo facendo. Non possiamo illuminare tutte le strade, un po' alla volta arriviamo dappertutto e abbiamo dato priorità ai tratti più pericolosi. Stiamo facendo due cose contemporaneamente. Da una parte la sostituzione dei vecchi lampioni con l'illuminazione LED che ci porta a dei risparmi e questi risparmi li riutilizziamo per fare ulteriori migliorie e per fare estensioni mantenendo lo stesso costo per l'amministrazione. Lì adesso l'abbiamo asfaltata, via del fiume, l'illuminazione a breve non è prevista perché direi una bugia e non siamo nelle condizioni di poterlo fare nel breve periodo. Verifico la cosa del dissuasore, perché il dissuasore è un bel deterrente, porta a rallentare, ma in certi contesti può diventare pericoloso anche per i motorini. Quindi questo lo faccio presente all'ufficio viabilità per capire se è fattibile e può convivere anche con il codice della strada in quel tratto. Ci dicono sempre a proposito di viabilità davanti al Barapio, strada provinciale 92 in zona Bellocchi vicino al centro commerciale. Se è possibile mettere un divieto di fermata perché c'è una strada a doppio senso di marcia e a volte con tanto traffico ci sono dei problemi. Per quanto riguarda le buche sindaco abbiamo ricevuto diversi messaggi, ne faccio un elenco per quelli che sono riusciti intanto a segnarmi. In molti chiedono lavori di asfaltatura al foro Boario perché ci sono diverse buche pericolose. Poi in zona Ferriano, Cerbara da Cerbara a Ferriano, la strada Fornaciotti vicino all'Oasi dell'Accoglienza e ancora via Giulia. Avete già programmato gli interventi per la prossima primavera o ci state lavorando? Allora stiamo lavorando per un altro lotto di asfalti per l'anno prossimo e quindi dobbiamo inserire ulteriori strade da asfaltare. Alcune non sono ultimate, dovevamo farle entro l'inverno, tra questo e San Cesario, perché prima che telefona qualcuno a dire che ci siamo dimenticati, in realtà non ci siamo dimenticati. Però va anche detto che noi stiamo vivendo una situazione di emergenza nel nostro servizio lavori pubblici, abbiamo avuto tanti pensionamenti, abbiamo una difficoltà oggettiva di persone che ci possono seguire i lavori. Fra l'altro poi abbiamo avuto anche un incidente niente di grave, però a questo punto si è assentato, per esempio l'ufficio strada in questo momento abbiamo zero persone tra pensionati e che ha avuto un incidente sul lavoro. Stiamo rimpinguando, abbiamo fatto adesso anche delle mobilità, i primi di gennaio avremo nuovi inserimenti che ci consentiranno di riprendere e di dar corso a tutta una serie di lavori programmatiche che devono essere ultimati e a questi aggiungere, ma anche per il nuovo lotto di asfaltature che programmiamo per il 2020, vanno realizzato il progetto materiale che dovevamo fare nel mese di dicembre, purtroppo per le ragioni che vi dicevo le abbiamo dovuto posticipare. Un'altra domanda prima di fermarci per qualche istante di pubblicità, chiedono come mai l'amministrazione non ha dato l'ok a rientro pomeridiano alla scuola, non ti è assurdo ma andare a scuola il sabato soltanto per due ore i bambini per tutto quello che comporta l'organizzazione di una famiglia, oltre che ai costi per il personale, le spese per avere solo due ore di lezione. Non so rispondere, parlare con l'assessore. Benissimo, speriamo di potervi dare una risposta nella prossima puntata di Primo Cittadino, vi dicevo ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità. Cari telespettatori, bentornati in diretta sul canale 17 di Fano TV, siamo in compagnia con il sindaco di Fano Massimo Seri, sindaco un'altra carrellata di messaggi, chiedono l'asfalto in via Bellandra, anche la messa in sicurezza e riqualificazioni di via 4 Novembre nel tratto da via Pertini verso Monte e ancora se si riuscisse a mettere un po' più di cestini sia in via Roma che lungo la nuova strada delle interquartieri, quindi non fanno mai male, un po' di pulizia in più. Questo lo diciamo all'ASET, di metterli, se li è prossima penso proprio di sì. Via Bellandra adesso stavano facendo, non so se sono finiti i lavori di sottoservizio, una volta fatti i lavori di sottoservizio, distanza nell'arco di 6 o 7 mesi, perché si deve ristabilizzare il terreno sotto la strada, si riasfalterà. Fra l'altro do un'altra anticipazione, visto che parliamo di ciclabili, stiamo facendo un bel lavoro di collegamento a Sant'Orso, chi passa lo vede anche ad O, che non sono ancora finiti, ma viene fatta una bella pista, messa in sicurezza, che si unisce alle altre. Abbiamo avuto un ulteriore finanziamento con un progetto famoso, insieme al comune di Senigallia e di Mondolfo, dove noi abbiamo fatto da capofila, che ci consente di fare ulteriori interventi per marce e piedi, ciclabili, collegamenti proprio per la sicurezza dei pedoni. Quindi questo è un altro risultato, mi sembra che siano 600 mila euro e si uniscono alle tante risorse che in questi anni abbiamo avuto dai vari enti ai vari livelli, perché questo me lo consenta, con i soldi tutti sono bravi. Se io mi prendo un merito, che poi divido con tutti coloro che hanno collaborato insieme a me, che in questi 5 anni, e stiamo proseguendo su questa strada, noi abbiamo ottenuto tantissime risorse dall'Europa, siamo passati veramente da zero a milioni, dal governo, dalla regione, dalla regione bisogna tornare indietro ai periodi del nuovo teatro e del porto di Fano per avere tante risorse come quelle che abbiamo avuto in questi anni, destinate per la nostra città, dal coni, insomma abbiamo cercato e colto tutte le opportunità e tutte le progettualità e su questo ci siamo, stiamo diventando un'eccellenza e penso un merito sia stato proprio questo, se oggi noi vediamo tanti interventi nella città è grazie alle risorse che siamo riusciti ad ottenere. Giriamo ad Aset, anche un'altra segnalazione di un telespettatore, telespettatrice che ci ha inviato un messaggio nella nostra applicazione, come mai non è più presente l'isola ecologica in zona Vago Colle di Camminate, quindi dove si devono recare questo punto i residenti? Via Vago Colle, vero? Esatto, a Camminate. Ancora altri messaggi, dicono il sindaco si è dimenticato forse del quartiere più bello di Fano, il Vallato, i camminamenti sono fatti scenti pericolosi, due anni fa sono iniziati i lavori per il rifacimento dei piastrelloni, poi si è fermato tutto, come mai? Io in realtà avevo destinato altre risorse, poi con qualche capriccio, qualche ritardo nelle progettazioni sono slittati, adesso poi nel pubblico non è come nel privato, quando alcune risorse vanno in avanzo o poi prendono altre procedure, in ogni caso sono comunque risorse importanti e sono interventi che vanno fatti, un pezzo alla volta va recuperato un ritardo per alcune parti, mentre come veniva ricordato un tratto è già stato fatto. Poi continueremo a parlare di quartieri, passiamo anche a quello di Carignano, però abbiamo un'altra telefonata per lei. Buonasera? Non c'è? Non c'è, ci ha ripensato. Proviamo a ricontattarla. Dicevo, parliamo anche di Carignano, perché proprio nei giorni scorsi si è svolto un incontro in questo quartiere, alla presenza del... Questo borgo, io lo chiamerei borgo perché Carignano è veramente... Ha le sue suggestioni, è bella, è un borgo che va valorizzato e non voglio anticipare nulla ma sabato c'è stata una bella, piacevole sorpresa, devo dire, sono rimasto piacevolmente stupito. Era presente il parroco, il vescovo, anche altre persone importanti come Guido Golini, responsabile dell'arte sacra diocesana. Oltre alle tante persone che hanno riempito la sala parrocchiare, vediamo adesso anche qualche immagine, era presente anche lei appunto. È stato fatto un po' il punto della situazione su questo borgo ed è stato presentato un progetto di recupero e valorizzazione. Tra le richieste del comitato per Carignano, ne cito qualcuna, rientrano gli interventi di miglioramento dell'aspetto estetico dei luoghi e degli edifici pubblici, in primis della chiesa. La valorizzazione delle opere di arte sacra e del patrimonio storico-culturale come i ruderi della torre di Carignano di proprietà dei Malatesta, ex Roccaforte e di importanza strategica per la città di Fano. Il comitato chiede anche il recupero di edifici e spazi pubblici per accogliere strutture ricettive e aggregative, penso al salone parrocchiale, ex bocciodromo, all'ex scuola alimentare, ma anche il recupero di immobili per la creazione di una ospitalità diffusa, l'hanno chiamata da realizzare preferibilmente in partenariato con i soggetti privati. Alcuni di questi interventi potrebbero essere eseguiti dalla diocesi, altri invece potrebbero essere eseguiti dal comune stesso. Che cosa ne pensa di questo progetto? Penso sia una bella cosa e soprattutto il bello è la partecipazione delle persone che sono aggregate, hanno formato un gruppo di lavoro, chiamiamolo comitato, ma in positivo. E questo dove si sono nate queste esperienze hanno portato sempre risultati belli. È successo a Camminate, è successo a Bellocchi, viene in mente Poderino, tra l'altro ieri c'è stata anche una bella festa, Centinarola, dove ci sono questi gruppi... Sì, perché poi significa mantenere viva la propria realtà, si vuole più bene al posto dove si vive, c'è collaborazione, collaborazione insieme all'amministrazione, c'è del volontariato che ti consente anche di arrivare dove l'amministrazione non riuscirebbe ad arrivare e poi c'è anche una fase di valorizzazione, di progettualità che vengono poi accompagnate dall'amministrazione. Mi viene in mente anche Metauriglia, adesso sono fatti dei bei lavori, adesso mi fermo se no rischio di dimenticare qualcuno e faccio una brutta figura e poi si offendono giustamente. Tornando a Carignano, qui devo dire che c'è stata anche una bella disponibilità da parte del Vescovo per quello che riguarda il salone parocchiale, la struttura del gioco delle bocce, noi abbiamo lì delle strutture anche comunali. L'idea è quella di valorizzarla, di farla, renderla più viva anche con delle attività promosse per chi ci abita, ma secondo me sono talmente delle belle idee che possono coinvolgere anche la città nel suo insieme. Abbiamo pensato anche ad alcuni eventi specifici che potremmo trasferire dal centro della città, che in alcuni casi ci sono dei doppioni, delle situazioni che si ripetono, magari vanno anche in contrasto con loro e potremmo invece distribuirle più nel territorio. Insomma, detto questo, è stata una bella iniziativa, quindi colgo anche l'occasione per ringraziare i cittadini che si sono resi attivi i protagonisti di questa iniziativa e sono convinto che si otterranno dei bei risultati. L'Unione fa la forza, a volte anche le buone proposte vengono prese in considerazione dall'amministrazione comunale. Ci chiedono l'asfaltatura in via dei condotti, marcia a piedi in via del primo maggio e via San Lazzaro a senso unico perché è pericolosa e stretta. Qui appunto come dicevamo prima non possiamo dare una risposta perché è sempre bene verificarne la fattibilità. Sì, perché poi sulla viabilità come si tocca una strada ha degli effetti su altre, quindi va fatto un ragionamento in un spazio più ampio che tiene conto di tutte le reazioni perché poi non si può bloccare l'articolazione e la viabilità. Parliamo di asfalti ma giustamente ci chiedono, ma quando vengono fatti? Ormai prossima primavera? Beh, gli asfalti non si fanno in pieno inverno. Quindi quelli che non si sono conclusi entro fine novembre riprenderanno fine febbraio e primi di marzo. Sentiamo chi c'è al telefono se siamo riusciti a recuperarla. Ce l'abbiamo? Sì. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, estimatissimo Massimo, complimenti per il lavoro che fa. Grazie. Io non sono di Fano, sono di Roma e mi complimento doppiamente, essendo Fano una colonia romana. Comunque, a parte gli scherzi… Ma è residente a Fano, se posso chiedere? È originario di Roma, ma è residente a Fano? Io faccio avanti e indietro per motivi di lavoro. Comunque, volevo dirle soltanto un consiglio che se possibilmente su Viale Romagna, perché ho già chiesto, ma c'è tutta una cosa di atriba tra la Prefettura e il Comune… Vabbè, a Viale Romagna sembra di stare a Monza, sia di giorno che di sera e di notte insomma, corrono disperatamente le macchine, è un pericolo anche durante il periodo estivo per i turisti che attraversano per andare al supermercato, nonostante le strisce pedonali, ma corrono, corrono, corrono. Quindi il mio consiglio da buon romano è mettete due autovelox, incasterete tutti i soldi per fare il resto dei lavori per il resto di Fano. Anche perché a Roma siete abituati, immagino. No, no, no signora, noi a Roma andiamo pianissimo perché con tutte le bughe che abbiamo dobbiamo per forza andare piano. Quindi o facciamo delle bughe anche qui o mettete due autovelox… Non mancano anche i soldi. Sì, i soldi entreranno nelle casse del Comune e farete il resto dei lavori per abbellire già una bellissima città. È un mio consiglio spazionato. Grazie. Grazie Ale per questo consiglio. Grazie e dice una verità sacrosante, noi abbiamo delle strade veramente pericolose dove nei momenti dove c'è meno traffico e quindi parliamo della notte, della mattina presto, le macchine sfrecciano, ma veramente a velocità altissime. Penso alla Flaminia dove fra l'altro sono stati negli anni anche incidenti gravi. Penso alla Statale sia a nord che a sud. Effettivamente bisogna prendere gli interventi decisi, incisivi e drastici e pensare degli autovelox in alcuni tratti come avviene in altre città. Per esempio quando andiamo ad Ancona in alcune strade c'è l'autovelox permanente e le macchine rallentano tutte quante, perché dopo diventa veramente pericoloso. Uno attraversa, può succedere di tutto, si sbanda, insomma sono rettilini dove c'è una velocità sostenuta. Giustamente come veniva ricordato l'amministrazione non può decidere di installare autovelox dove vuole, c'è un'autorizzazione e un percorso da fare assieme alla Prefettura che dà gli ok individuo quali possono essere gli spazi destinati. Io su questo ho chiesto proprio di farci un ragionamento per alcuni tratti veramente pericolosi e potrei anche dire che quelle risorse che arrivano da quelle multe giuste, perché quando si va veramente forte non si è un pericolo per se stessi ma anche per gli altri, non mi sembra giusto, potremmo utilizzare per fare i marciapiedi, per mettere ultimamente in sicurezza i pedoni. Benissimo, andiamo avanti con i messaggi. Sindaco, ma questa rocca lato ferrovia la vogliamo pulire e risistemare? Le chiedono? Vorrei fare tutto, un po' alla volta. Anche questo è passato ad Aset come competenza o essendo un momento? No, no, questa la pulizia che noi facciamo alla Rocca, al Bastione Nuti, al Bastione Sangallo, ci sono delle ditte specializzate per fare quelle in arrampicata perché è comunque un lavoro non difficile ma ha la sua complessità e la sua pericolosità e quindi lo devono fare ditte specializzate in questo. Quando verrà aperto il tratto delle opere compensative che dalla trave conduce in via Roma? Sì, l'ho detto prima, il 23 dicembre. Quindi ci sarà un taglio del nastro? Sì, adesso faremo un momento, quindi la settimana non è questa, quella successiva. A Fano Due invece chiedono una pista pedonale con l'attraversamento della strada dal quartiere alla scuola materna per mettere in sicurezza soprattutto i ragazzi e le chiedono anche per quale motivo gli alberi di via Papiria sono stati potati così drasticamente? Penso sia stata una scelta in base anche allo stato delle piante, suppongo. Io non sono un esperto di potature però chi ha questo compito ha fatto sempre questo mestiere, per carità qualche volta si può magari anche eccedere, può capitare, però stanno facendo un buon lavoro nella città. Su quegli alberi devo dire ci sono state un po' di segnalazioni che ci dicevano di un intervento forse troppo severo, se così possiamo dire, ma è anche vero che quelli erano alberi che da troppo tempo non venivano potati, non erano attenzionati, se così possiamo definirlo, però ecco non mi sento di dire qualcosa in più. Perché in via Metauro in prossimità di via Pizzagalli non sono state ripristinate le strisce pedonali ancora la rotatoria di via Lepiceno è un po' troppo piccola rispetto a quelle previste in altre città che rendono il traffico molto più scorrevole. A proposito di telecamere ne chiedono una anche dove sono i bidoni dell'immondizia, quindi i cassonetti davanti al club anziani, quindi in zona Sassonia e la gente, suppongo, la gente ci dicono butta di tutto, quindi anche qui. Sì, arriveremo anche lì, a rotazione le installiamo, siccome sono 600 postazioni non abbiamo 600 telecamere, per cui ci occorre un paio d'anni per fare il giro di tutte le postazioni, ma adesso lì in Sassonia fra l'altro è una zona anche che ha una sua delicatezza, una sua centralità, per cui sarà anche mia cura sottolineare la presenza di una telecamera nel prossimo giro. Reggio, abbiamo la telefonata pronta? Perfetto, sentiamo chi è in linea, buonasera. Ce l'abbiamo pronto? Sì, pronto. Buonasera. Prego. Buonasera, buonasera signor sindaco. Dunque, io prima di tutto 100 o 1000 volte sì per il al digestore. Ah, al digestore, quindi è a favore. Secondo, adesso la domanda, io penso che ognuno di noi capiti sulle strade, specialmente di sera, di morire, appena più fa notte, è un pericolo. Voi parlavate delle macchine che vanno veloci ed è vero, ma le biciclette senza illuminazione. Vedete che pericolo sono? A me capita spesso di percorrere la Flaminia e io ogni volta che arrivo a casa o su verso Carrara o vengo giù verso Fano, quando sono arrivato dico stasera non ho inforcato nessuno, dico mi è andata bene. Come si fa a convincere o le vigili urbani o non lo so chi, fare in modo che le biciclette abbiano le luci davanti e dietro, sono un pericolo. Attenzione perché lì non è che si fa male solo quello con la bicicletta, il guaio è per l'automobilista. Quindi voglio dire, cerchiamo di porre riparo, ci rimettiamo i cartelli con i limiti di velocità e del sacro santo, ma le luci, le biciclette di notte non si vedono. Ha pienamente ragione ed è anche un obbligo previsto dalla legge. Sì, ma infatti chi ha la bicicletta non è che non ha regole, anzi le ha come le ha a qualsiasi altro mezzo. Anche perché è un veicolo a tutti gli aspetti. Effettivamente, guardi, adesso mentre il signore parlava mi è venuta in mente una scena che mi è capitata a me, sembra una barzelletta ma è vero. Stavo percorrendo la Flaminia di notte, vedo un ragazzo di colore vestito tutto in scuro, con la bicicletta senza fanale, l'ho visto all'improvviso e ho rischiato di prenderlo sotto. Quindi c'è un obbligo. Noi abbiamo un problema, da un certo orario i vigili che fanno servizio non li abbiamo. Adesso che le giornate si restringono, il buio arriva prima, possiamo intervenire fino a un certo orario. Però ecco, anche su questo effettivamente sarà mia cura far tesoro anche di questa segnalazione per chiedere anche al nuovo comandante di essere più severo e di intervenire anche in questi casi. Perché poi, come sempre accade, basta intervenire un paio di volte e far sapere anche una certa comunicazione. Un po' di prevenzione, esatto. Sì, perché poi non è che bisogna canirsi. Bisogna dire attenzione, adesso faremo tutta una serie di controlli, chi non ha l'illuminazione della bicicletta. Ma alla fine è una tutela per il ciclista, perché sulle strade dove non ci sono piste ciclabili, effettivamente è pericoloso. L'altro elemento che diceva il signore dieci, cento volte, mille volte sì al digestore, ecco, quando le persone conoscono, capiscono di cosa parliamo, si rendono conto che è un bene per un territorio avere. Questo mi fa piacere. Qualcuno ha chiamato anche per ringraziarla per i lavori fatti ai giardini di Gimarra. Un altro messaggio curioso che ci arriva da Diego, da Urbagna, ci scrive. Ho lavorato in più di 20 paesi tra il pesarese e il riminese, ci dice. Ora, sempre per lavoro, faccio il pendolo tra Rimini e Bellaria, ma la bellezza di Fanno, l'affidabilità e la genuinità dei fanesi è unica. Un pollice alzato al sindaco Massimo Seri, che reputo a detta di molti conoscenti, insomma, dice che sta operando bene. Stesso discorso per l'assessore Mascalin e saluta anche la redazione di Fanno TV. Quindi complimenti che arrivano anche. Grazie, non solo critiche, qualche volta arrivano anche complimenti. Grazie. All'uscita della superstrada, dove da due corsie si passa ad una, non ci sono le frecce di segnaletica sull'asfalto che indicano il rientro a destra. Quindi in caso di nebbia Fitta potrebbe essere un guaio. La competenza in questo caso è del comune? No, è di ANAS, la E78. Adesso magari proviamo a segnalarlo. Dovremmo avere un'altra telefonata pronta, giusto? Benissimo. Buonasera, chi è in linea? Sì, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera sindaco. Buonasera. Allora, io le volevo chiedere l'unità sulla realizzazione della notatoria qua in via Campanella, nell'intersezione del Codma, le volevo chiedere, visto che è stata fatta il cambio della viabilità dallo scorso settembre 2018 e che sempre l'anno scorso è stata approvata una mozione in Consiglio Comunale che appunto si prevedeva l'impegno a realizzare questa notatoria, volevo chiederla a che punto… Di dare, scusi? Di realizzare la notatoria nel punto vicino anche a… Ah sì, 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 non l'ho capito, perfetto. Esatto, e quindi visto che c'è anche uno snodo abbastanza grande, quindi si potrebbe prevedere una rotatoria ampia, perché mi volevo ricollegare a quello che diceva una signora che interveniva precedentemente, le rotatorie nelle nuove opere compensative sono abbastanza per lo spazio disponibile, sono risultate abbastanza strette, insomma una corsia si potrebbero fare più… Sì, 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 guardi, le posso dire che abbiamo già dato l'incarico per la progettazione, stanno già lavorando sul progetto della rotatoria. Quindi speriamo nel prossimo anno di avere… Guardi, è un pezzettino che gliel'abbiamo dato, quindi spero… non solo le abbiamo dato l'incarico della rotatoria, lì stanno ragionando, ho visto degli schizzi, può essere una doppia rotatoria o una grande rotatoria, ma non solo abbiamo dato l'incarico per la rotatoria, ma anche per gli accessi… le messe in sicurezza degli attraversamenti per i ciclisti e pedoni nel tratto dell'opera compensativa. Però lì va chiarito che noi non possiamo intervenire finché non avviene il passaggio, la consegna dell'opera dalla società d'autostrade al comune di Fano. Nel momento che abbiamo la consegna, questa avverrà, dopo il collaudo di tutto il tratto potremmo intervenire. Però noi nell'attesa di questo passaggio ci stiamo già attrezzando avendo dato l'incarico per gli interventi che dovremo fare successivamente. Sulla rotatoria invece nel momento che abbiamo l'esecutivo possiamo fare anche la gara d'appalto. A proposito di rotatori, in fondo a Tombaccia ce n'è una che non è illuminata e ancora chiedono l'asfalto in via Girolamo da Fano, via Bellandra, via Capellini… In via Girolamo da Fano l'abbiamo asfaltata… Forse c'è qualche buca che si è ricredata… No, no, questo io la faccio… ogni tanto la faccio e mi sfugge francamente, o magari le certezze qui… ma come si dice, mano sul fuoco non si mette mai, si rischia di… Magari un sopralluogo, così come chiedono un sopralluogo al giardino comunale di Cucurano vicino alla scuola primaria perché è in condizioni non tanto buone. Lì fra l'altro adesso comunque con le scuole stiamo andando avanti con la nuova scuola di Carrara Cucurano, quindi anche quel problema verrà risolto. Benissimo. Volevamo chiederle anche quando si potranno sistemare le telecamere che non funzionano più da molti anni al cimitero di Rosciano perché ci sono diversi furti sulle tombe. Questo avviene purtroppo in diversi cimiteri della città ed è veramente una cosa… non commentiamola, è indegna, è indegna. È incivile. È incivile, assolutamente sì. Chiedono anche dei cimiteri, no, dei bagni pubblici, dei bagni pubblici nel centro storico. Questa domanda si ripete ogni volta che ci incontriamo. Hanno ragione, non ci sono scusanti per il sindaco, bisogna farle, punta e basta. E facciamo almeno entro il mandato? Sicuro, sicuro. Entro il mandato sicuro. Ecco, anche qua, bagni pubblici nel centro storico, chiede come si sta evolvendo la situazione del divieto di via Poggi. Ne ha conoscenza, sindaco? Ho parlato con la signora che l'ha chiamato l'altra volta, ci siamo sentiti, non penso il giorno dopo, ma due giorni dopo. Ho messo in contatto anche con il comando e l'assessore, li avevo invitati a fare il sopralluogo. Adesso non sono aggiornato, francamente. Se vuole lo verifico, domani quando rientro. Chiedono, c'è qualche progetto per Ponte Sasso? C'è qualche novità per noi? Allora, entro fine anno, quindi siamo il nove, faremo il concorso di idee, due concorsi di idee per la riqualificazione del waterfront del lungomare, una parte che va da Fossossiore fino al ponte Metauro e l'altro per la parte sud, con l'impegno di fare un intervento, prevedere un intervento che noi attribuiremo a chi vince il concorso di idee, come abbiamo fatto con il parco cittadino, siamo già al secondo stralcio, perché è nostra intenzione valorizzare il lungomare, sapendo che ovviamente non è che possiamo pensare di riqualificare tutto perché occorrerebbero veramente 20-30 milioni, però un passo alla volta, avendo le idee chiare, avendo dei progetti, si può andare in quella direzione. Ci sono alcune parti che hanno più bisogno di altri, fra l'altro stiamo per appaltare anche i lavori della pista ciclabile di Ponte Sasso, li abbiamo allungati perché abbiamo aggiunto altre risorse per quell'intervento, perché visto che ci siamo sistemiamo anche sotto servizi la raccolta delle acque, che porterà beneficio anche ad altre zone limitrofe che in caso di pioggia tendono ad allargarsi e quindi questo è questione di giorni. Altri cittadini vorrebbero sapere come mai il boschetto che dall'ex mattatoio conduce il campo d'aviazione viene lasciato in totale abbandono. Si sono un po' informati, ma dicono che né ASET, né il Verde Pubblico, né la Polizia Comunale, sono riusciti a dare una risposta, quindi se qualcuno può farsene carico e risolvere il problema. San Cesario è dimenticata però su questo la risposta, non sarà così. E il sottopasso di via del Bersaglio? Da fare, è quello adesso. Onestamente prima di arrivare lì ci sono altri sottopassi, perché lì c'è un soprapasso, anche se è più scomodo. Io capisco chi lo propone, che ha ragione, ci sono perse delle occasioni quando si erano presentate, non è facile fare un sottopasso. Ne abbiamo fatto uno a Ponte Sasso, fra l'altro, nuovo. Adesso mercoledì sono con i direttori di RFI per parlare di altri due sottopassi che ci finanzieranno, quello di Viale Cairoli e di Viale Nazario o Sauro. Però effettivamente anche lì c'è un'esigenza, perché c'è tutta una serie di persone che abitano San Lazzaro, non dico Vallato, ma anche da lì che vanno magari al mare, in bicicletta, a piedi nel periodo estivo e trovano una barriera e con un sottopasso verrebbe tutto più in sicurezza e più comodo. Prima di sentire che Cellina chiedono se cortesemente può dare una risposta su questo boschetto, se ne fa carico per chiedere qualche informazione, perlomeno per avere la competenza. Sì, perché lì il boschetto, se non ho capito male, è nella parte verso via del fiume, verso il matatoio, del nuovo parco urbano. Noi abbiamo fatto il primo stralcio che è il parco giochi per i bambini, fra l'altro devo dire molto utilizzato e molto gradito dai ragazzi, dai bambini e anche dai genitori che l'accompagnano. Adesso stiamo già lavorando sugli esecutivi per il secondo stralcio che sarà un altro intervento e questa è la parte dove sono stati piantati degli alberi e sono, non dico trascurati, ma lasciati un po' incolti, però lo verifico. Benissimo, sentiamo chi c'è al telefono, buonasera. Ci sente? La sentiamo un po' male, però capiamo che è in linea. Buonasera, ci sente? Parla con me o qualcun altro? Parlo con lei, eccoci qua. C'è il sindaco pronto ad ascoltare la sua domanda. Buonasera. Allora, lei è con me? Sì, sì, stiamo parlando con lei signora. Ah, non capivo bene. No, lo dice Shanti Bellotti. Sì. C'abbiamo il problema dell'acqua, quella che viene dalle fogne, quanto è troppa che butta fuori, ci entra nel garage. In che via? Già un pozzo ce l'abbiamo, una capitoia, però ce ne vorrebbe un'altra. In che via? Diciottesima strada. Diciottesima. Il sindaco sta segnando e speriamo insomma che a breve, nei prossimi giorni, riesca a seguire un controllo. No, adesso il controllo farò fare. La caditoia non è che si fa in due giorni, insomma. Certo, sono interventi importanti. Quelle non sono sempre così semplici. Sindaco, riesce a dire ai cittadini che fine abbia fatto l'assegno di cura? Dicono che è terminato il 2019 e non hanno ancora ricevuto nulla. O quantomeno originare l'assegnalazione all'assessorato dei servizi sociali. Sì, assegno di cura. A Bellocchi, nella nuova strada vicino al centro commerciale bisogna mettere il diveto di formata. Questo lo avevamo letto prima. Il parcheggio di piazza Unità d'Italia necessita del rifacimento della segnaletica orizzontale. Ho visto che comunque anche per la segnaletica state procedendo, è stata rifatta. Sì, stiamo facendo tanti tratti di strada. Poi chiedono di sistemare anche dei tratti di strada di via Papira che va da Tre Ponti al Frantoio, dicono Tauso perché è piena di avvallamenti. Via Lazio che è in condizioni indecenti, alberi non potati da anni, asfalto che sembra riduce da un bombardamento addirittura quindi insomma forse è necessario intervenire. Andiamo avanti con i messaggi che ci stanno arrivando. Fanghi messi provvisoriamente a Torrette rimarranno stabilmente oppure verranno tolti? No, anche su questo avevo dato delle tappe e poi ovviamente non dipendendo solo dal comune, io mi assumo sempre tutte le responsabilità quando le cose dipendono esclusivamente da me. Però anche qui siamo ormai in direttura d'arrivo e si era stato un intoppo di interpretazione tra la provincia di Ancona e la provincia di Pesaro che dice, a dir la verità, il funzionario della provincia di Ancona aveva posto dei quesiti e aveva bloccato tutto quanto. Su questo abbiamo sentito intervenire, seguire, insomma fortunatamente quel problema è stato superato e ormai siamo agli sgoccioli perché hanno finito anche il progetto e quindi il progetto è finito, penso in 10-15 giorni la regione dia l'autorizzazione e poi c'è la gara d'appalto per il trasporto. Quindi penso che per maggio ci siamo. Ultimi messaggi, allora chiedono per Via di Novampa a Bellocchi, se sa dove è ci scrivono, sono già due anni che esiste, tuttora dopo, insomma, ci passano 700-800 mezzi al giorno ma non ha ancora una segnaletica, l'illuminazione, addirittura non ha neanche un nome, se ci sono via di Novampa a Bellocchi. Allora andiamo avanti invece qua, strada Fornaciotti e questa l'abbiamo letta, ancora i fanghi ci chiedono del porto, ma allora perché è stato impegnato tutto il sottopasso di via Bersagno, ancora questo qua, l'asfaltatura a caldo dei primi 500 metri di Vede del Ponte Alto, il resto è stato asfaltato a freddo, quindi a quando, quindi anche qua, San Cesario, sì, perché magari c'è qualcuno che si sintonizzano dopo, Sindaco. San Cesario, lo ripeto, dovevamo averlo già fatto, l'accordo era metà ASET, metà attraverso i nostri uffici, purtroppo le ditte che dovevano farlo e i problemi interni alla struttura date dall'assenza di personale perché sono andati in pensione e non siamo riusciti ancora a sostituirli perché abbiamo delle procedure che dobbiamo espletare, non siamo una ditta privata che ci alziamo e assumiamo chi ci pare, ci sono dei percorsi da fare. Poi certi lavori non si possono fare con certe temperature, ma lì è tutto destinato, risorse reperite e quindi aspettiamo che arrivino i primi soli per poterlo fare. Lavori in Piazza La Mendola a che punto sono, chiedono? Stanno andando avanti, è un lavoro importante, anche su questo mi diverto alcune volte a guardare i leoni da tastiera che fanno quei commenti, soldi buttati via, ha piovuto, si è allagato, lavori fatti male. I lavori non sono finiti, li abbiamo interrotti con l'arrivo dell'estate per impedire che ci fosse un cantiere nel periodo estivo, finita l'estate, fine settembre sono ripartiti, ma come avete visto chi segue capisce che è un lavoro articolato, bisogna fare la vasca, scavare, c'è stato tutto il collegamento perché l'acqua raccolta poi verrà portata sul canale Albani, quindi c'è stato un lavoro complesso che si è dovuto fare, si è dovuto passare nel sottopasso di via Leclerola, le cose vanno fatte bene, occorrono i loro tempi, ormai anche qui siamo in una fase avanzata, però al termine di questo lavoro si dice, come dovrebbe essere, la parola fine ai disagi che i residenti per 30-40 anni, perlomeno quando sono piccolo li ho sempre visti, quindi da veramente tanto tempo, tante amministrazione hanno sempre annunciato che avrebbe fatto qualcosa, noi lo abbiamo fatto per davvero, le opere portano disagio, ma una volta terminate poi rimangono e se ne godono i benefici. Purtroppo noi riusciamo a leggere tanti altri messaggi, ci chiedono alla quartesia di farle questa domanda, del quartiere di Sant'Urso, ci dicono che non sono abito qua, gli aerei a qualsiasi ora sopra le nostre case non si sopportano più e potrebbero anche inquinare, il problema è che per questo discorso credo ne sia competente l'aeroporto, non so se poi voi riuscite a poter dare delle indicazioni dei divieti in tal senso, non penso, ci sono anche delle esercitazioni notturne, sappiamo, non so se il comune in questo caso possa fare qualcosa, mi dica lei. Sono governative quelle. A Natale 2020 si potrebbe spostare, dicono, l'albero di via dei Ciliegi al Pincio, che cosa ne pensa? Così introduciamo l'argomento natalizio e chiudiamo questa puntata di Primo Cittadino. Penso che quando ci sono posti belli vandano valorizzati, il fatto che la gente chieda questo significa che abbiamo fatto le scelte giuste, abbiamo abbellito, trasformato la via dei Ciliegi in una bellissima via rispetto a come era prima, il Pincio è qualcosa di straordinario, pensate che a distanza di tempo, ormai sono mesi che abbiamo inaugurato il nuovo Pincio, ancora la gente mi ferma per ringraziare, per fare i complimenti per questa opera che porterà, che sta portando benefici, perché effettivamente quando si arriva e si vede questo spettacolo c'è subito un'ottima impressione della città di Fano e anche il signore di Primo di Urbania che lo richiamava, è così, ma anche con la gente che viene, che scopre Fano, rimane spiacevolmente colpita. Quindi stiamo andando sulla strada giusta e penso che avremo anche delle gratificazioni in termini di presenze. In futuro anche oggi stavo facendo una riunione e stavo proprio ragionando su alcune azioni che vogliamo fare per il nostro centro, proprio per attrarre sempre maggiori turisti nella nostra città, che poi significa anche ricchezza per Fano. Certo, vi ricordo che sono davvero tante le iniziative fino al prossimo 6 di gennaio, ci sono le attrattive bellissime nella città, penso di trenire, la pista di patinanti sul ghiaccio. Non lasciatemelo dire perché è la soddisfazione, io insomma non sono nato a Fano, i miei genitori erano migrati all'estero, ma sono cresciuto da piccolissimo qua, quindi mi ricordo tutti i periodi natalizi della nostra città e francamente tante presenze, tanta partecipazione, tante organizzazioni come quella degli ultimi tre anni Fano non l'ha mai vista e le immagini al di là delle chiacchiere ne sono una conferma, c'è stato un lavoro importante fatto, scelte che questa amministrazione ha voluto fare, la capacità di coinvolgere tante associazioni che ci hanno aiutato e che ci aiutano e si fanno carico insieme a noi dell'organizzazione che ci consente di fare molto di più di quello che faremmo se fossimo solo amministrazione. Allora di questo mi sento anche di esprimere un ringraziamento a tutti quanti perché fanno qualcosa per la loro città e non per se stessi, per se stessi come cittadini e questo è bello e su questo Fano devo dire rispetto a tante altre città anche vicino, è un bel esempio. Non solo Natale logicamente, anche Capodanno in piazza, Befana a 6 gennaio. Tutti gli appuntamenti importanti, tanti fine settimana, le attività al teatro, i momenti più importanti dal Capodanno all'Epifania, insomma ce n'è per tutti i gusti, per tutte le esigenze. Per tutti i bambini insomma non manca nulla. Sì, sì, la via di Ciliegia, anche ieri tantissima gente anche lì, bambini con i cori che cantano, insomma, Pavo Natale che c'è, che accoglie tutti i bambini, anche qui sono associazioni, non solo donna che organizza questo spazio, con il Paese dei Ballocchi, insomma, poi ho paura di citare associazioni, perché sono tantissime, soprattutto in quella via. E poi, insomma, ci dedicano passione, impegno, è giusto anche riconoscerlo a tutte, se si dimentica qualcuno si commette un errore grave. Primo Cittadino torna lunedì prossimo, lunedì prossimo sarà l'ultima puntata, Sindaco essendo stato con noi questa sera, ci tornerà prossimo anno, anno nuovo. Quindi speriamo la prima puntata del 2020 di Primo Cittadino. Grazie per essere stato con noi, grazie in regia Cristiana Guerra e Riccardo Sora, grazie a tutti i telespettatori per averci seguito. Sindaco di Fano Massimo Seri, le auguriamo una buona serata. Grazie e buona serata e buonanotte a tutti i telespettatori e a quelli che incontrerò io farò di persona, a quelle persone che da qui a Natale non avrò modo di incrociarla, anche se Fano non è Roma, ma non si riesce a incontrare tutti quanti, auguro anche un buon Natale a tutti voi. Grazie Sindaco, fra poco trasmetteremo il telegiornale di mezzasera. L'informazione torna domani mattina alle ore 7 con la nostra rassegna stampa Occhio ai giornali. Arrivederci a tutti.